Eccoci con un'altra puntata, un altro incontro per conoscere il movimento politico Libertas. Come già ho avuto modo di enunciare, il mio modo di fare informazione, la Luigi Abate Production and Communication, intende dare spazi a tutte le formazioni politiche, proprio per far sì che la parcondicio non esista solo durante il periodo elettorale, l'ultimo mese, ma la parcondicio deve esistere sempre, nel senso che tutte le formazioni politiche hanno accesso a questa emittente, a queste emittenti, hanno accesso nelle trasmissioni, alle stesse trasmissioni che poi vengono pubblicate sui social, sul web, e quindi è giusto che la formazione politica esprima le proprie idee, poi il cittadino valuta. E allora abbiamo questo secondo incontro con il segretario nazionale del movimento politico Libertas, il dottor Paolo Magli. E quindi come è un po' lo schema consueto di queste puntate, intanto si presenti. Sono Paolo Magli, sono pugliese, di Martina Franca, con generazione anche su Francavilla Fontana, e sono laureato in scienze politiche e relazioni internazionali. Diciamo che entriamo in Libertas da qualche anno. Libertas viene fondata nel 2014 ed è una branca della vecchia democrazia cristiana, che, sottolineo, non abbiamo nulla a che fare con la vecchia democrazia cristiana, con quella democrazia cristiana che ha venduto il popolo italiano a determinate categorie multinazionali e quant'altro. Perciò noi ci discostiamo dalla democrazia cristiana, dei vari titoloni, laddove c'erano anche in Cuglia parecchie persone. E voglio sottolineare, e ne ho tutte le prove, corrotte e collusi. E di questo non abbiamo nulla a che fare, perché nella libertas e non siamo democrazia cristiana, il nostro presidente, il dottor Antonio Fierro, è una persona alquando alta nei titoli e quando riguarda un po' nella famiglia, in tutto quello che può determinare il livello culturale e nazionale. Ecco, cerchiamo di affrontare i programmi, i punti nevralgici del vostro programma. Sia a livello, diciamo, più nazionale, ma anche a livello locale. Certo, il nostro programma a livello nazionale si basa senz'altro sulla famiglia. La famiglia in quanto principio del connubio di tutta la nazione. Dalla famiglia si parte per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda l'industria, per quanto riguarda tutto il comparto laddove ci possiamo organizzare per dare dignità, quella che è stata tolta dal 1994 ad oggi. Sono 24 anni che è stata tolta la dignità al popolo italiano. Noi vogliamo ridare la dignità al popolo italiano su basi reali, su basi concrete, perché abbiamo tutte le forze, tutti i numeri per poter riportare l'Italia a quella che era nel 1994, e cioè alla quarta potenza mondiale. Noi ci dobbiamo ricordare che la nostra nazione, la nostra patria, era la quarta potenza mondiale e questo avviene dopo anche la guerra della seconda guerra mondiale, laddove il nostro primo ministro all'epoca, Alcide De Casperi, è il nostro presidente di Libertas, perché prima nasce Libertas e poi nasce la democrazia cristiana, ci dobbiamo sempre ricordare, e noi siamo quelle persone, siamo quelle persone che nel territorio porteranno il benessere di tutta la popolazione italiana, e non escluso altre categorie, ma tutte insieme le categorie, dall'operaio al primario ospedaliere, dal fattorino al manager d'impresa. In tutti i settori dobbiamo riportare, e in che senso riportiamo? Innanzitutto bisogna ricordare che dopo il 1994 furono debellati, spostati, stracciati dei ministeri, e furono i ministeri dell'economia e i ministeri delle finanze. Questi due ministeri bisogna rimettere insieme per poter, concordi con il ministero del tesoro, riuscire a non vendere più quelle nostre proprietà, che erano le autostrade, erano le ferrovie, erano i porti, gli aeroporti, le siderurgiche come Taranto, come l'Ital Sider, oggi la chiamiamo Ilva, ma per noi è l'Ital Sider, è la siderurgica italiana, e sono stati posti di lavoro, sono stati proprio debellati e portati via. Allora, riportandoci di nuovo a rimettere su il ministero dell'economia, il ministero delle finanze, in contemporaneo con il ministero del tesoro, avremo che qualora ci sarà una concessione da dare a delle società, saranno tre ministri a poter firmare. Se un ministro non firma, la concessione della data viene ridata al popolo italiano. E con questo dobbiamo cercare oggi, da oggi stiamo un po' lavorando per i pendici, tutte le nostre proprietà, ma le nostre proprietà, non dico mie, sono le sue proprietà, sono le proprietà di suo padre, di suo figlio, di suo nipote, e noi dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un avvenire, un avvenire di lavoro e non un avvenire di schiavismo. Oggi abbiamo lo schiavismo moderno. Lo schiavismo moderno arriva da quei paesi laddove ci sono delle famiglie di finanziatori, quale i Rothschild, quale i Soros, quale i cosiddetti Club Bildenberg, che finanziano questo popolo africano per portarli in Europa per poter cambiare il popolo europeo. Ma non soltanto quello europeo, ma si inizia proprio da quello italiano. Perciò questo bisogna rebellarlo. Allora dicevo, rimettiamo su due ministeri, Economia e Finanze, con il Ministero del Tesoro. Oltre a questo bisogna rimettere su il Ministero delle partecipazioni statali, perché quel ministero delle partecipazioni statali è quel ministero che darà lavoro a una componente italiana di lavoratori abbastanza ampia. Oltre a questo un altro ministero va messo su e sarebbe quello del turismo, sport e spettacolo. Perciò rimettendo su questi quattro ministeri e riportandoci, riprendendoci di nuovo le nostre proprietà, le nostre proprietà e i nostri cittadini italiani, riusciremo a riportare conti alla mano, cioè fatti i dovuti passaggi, riusciremo nell'ampito dei 24 mesi, 18-24 mesi, da poter sviluppare circa 3 milioni di posti di lavoro. Nel nostro finale del quinquennio che si va a governare, riusciremo a riportare e daremo le prove circa 5 milioni di posti di lavoro. Riportandoci questi posti di lavoro, l'Italia emergerà da quella melma che ci hanno portati, contemporaneamente la destra e la sinistra. Ecco, quindi la sfida al discorso occupazionale. Mi piacerebbe sentire il suo parere rispetto a certe idee di Di Maio, il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza è una chimera. Perché è una chimera? Perché non potrà essere dato, ma d'altronde cambiando le parole, cambiando l'oggetto, il prodotto non cambia, come si diceva una volta, no? Perché noi, il reddito di cittadinanza, così come lo chiamano oggi, ma già c'era. Una persona che perdeva il posto di lavoro, per 12 mesi, 15 mesi, 14 mesi, quello che l'industria che aveva perso il lavoro riportava, si portava su che veniva chiamato all'epoca, all'epoca che ancora esiste, il reddito di disoccupazione. Perciò il Di Maio, i Cinque Stelle, non hanno scoperto niente. L'acqua calda già è stata scoperta da parecchio tempo fa. Non c'era bisogno di prendere in giro gli italiani, perché gli Cinque Stelle oggi come oggi stanno prendendo in giro gli italiani, ma forse non lo fanno perché non hanno le capacità intellettive, culturali, storiche e quant'altro per poter gestire un paese. Ci vogliamo ricordare una cosa, e questo è molto antico, che Cicerone diceva, bisogna conoscere la propria storia per gestire il nostro presente e programmare il nostro futuro. E il futuro dell'Italia passa da Libertas. Ecco, concludendo la nostra chiacchierata, dottor Magli, rispetto ad altre forze politiche con le quali voi avete maggiori e migliori affinità, con chi intendereste dialogare, eventualmente fare un percorso comune? Guarda, oggi il percorso comune, così come è messa la politica italiana, è un po' difficile andare a scegliere. Ecco perché noi cercheremo sempre di andare da soli. Ma comunque nel momento in cui ci dovremmo apparentare per un discorso territoriale o per un discorso regionale o provinciale, beh, su quel discorso dovremmo scegliere. Sicuramente non saremo a sinistra, sicuramente a sinistra proprio non ci saremo. E perciò tutte le parti di sinistra, e poiché i 5 Stelle sono parti di sinistra, non credo che i 5 Stelle con tutta la sinistra globale italiana ci potremmo andare ad apparentare. Ma ci possiamo apparentare con quelle forze e persone, più che forze, di destra, laddove ci riporteranno che vogliono cambiare realmente il Paese tenendo presente il nostro programma. Perché il nostro programma, perché il programma per il futuro, il programma per i giovani, il programma per le nuove generazioni, di là non ci dobbiamo scostare. Anche perché se oggi noi facciamo qualche cosa, non abbiamo più 30 anni, 35 anni, 40 anni, sai, vogliamo fare, abbiamo già una certa età noi. E perciò se oggi facciamo qualcosa, non lo facciamo perché prendiamo dei soldi o delle tangenti, perché siamo con lui se ci mettiamo in tasca. Non ci metteremo mai nulla in tasca. Andremo sempre con le mani pulite davanti. Tutti i componenti di Libertas andranno avanti con le mani pulite davanti e penseremo soltanto e solamente ai nostri figli e ai nostri nipoti. E quando parlo di nostri figli e nostri nipoti, parlo per i figli e i nipoti degli italiani. E allora termina qui il nostro incontro con il segretario nazionale del Movimento Politico Libertas, il dottor Paolo Magli, avremo modo di confrontarci con altri esponenti nazionali e locali proprio per presentare all'elettorato, per far sì che il cittadino possa avere ogni dettaglio su questa formazione politica, così come abbiamo fatto con altre, in un'ottica di democrazia e di pluralismo che deve sempre e comunque caratterizzare la libera informazione. Grazie